Corgone, è arrivata questa sconfitta anche pesante, credo che però sul risultato ci sia poco da dire. Sì, c'è poco da dire perché è giusto, ovviamente condizionato da un'infrazione numerica per più di un'ora, per 70 minuti perché giustamente il recupero è dovuto, però per 70 minuti in 10 contro una squadra come il Pescara diventa complicato. Diciamo che dopo il vantaggio di Guscher non avete avuto molto tempo per riorganizzarvi o comunque per cambiare probabilmente la partita che avevate pensato perché poi è arrivata questa espulsione che ha complicato i piani. No, non cambiava niente, se era doppia cangianiello stiamo 2-0, il vantaggio ci portava a giocare ugualmente all'attacco, a provare a fare il secondo, il terzo, invece abbiamo preso l'espulsione, il gol sull'espulsione e il gol a riposo magari. Se fossimo andati a riposo in parità sicuramente avremmo fatto una partita un po' più attendista perché sapevamo le qualità del Pescara. Senza sabbione, senza tiritiello a gara in corso, poi la partita si è fatta tutta in salita? Sì, si è stata in salita molto. Dobbiamo avere soltanto un po' più di equilibrio quando le gare si mettono così in difficoltà bisogna essere bravi a capire la circostanza perché riprendere la partita sul 3-1 per il Pescara in infranumerica credo che era utopistico. Quindi in quel caso siamo giovani perché se abbiamo anche molti giovani in campo bisogna essere più realistici e vedere quello che puoi fare in quel momento. Era il Pescara che si aspettava? Mi spiego, nelle ultime due partite aveva raccolto un solo punto e non aveva segnato neanche un gol. Pensava ad un Pescara un po' in crisi? No, assolutamente. Non ha fatto bottino piano con l'Avis Pesaro perché se ti chiudi e stai nella tua metà campo è legittimo e rispetto quelli che fanno così qui perché spesso si vince anziché così. Non me l'aspettavo assolutamente, mi aspettavo una squadra che venisse qui a giocare come abbiamo fatto noi e quindi ovviamente nel secondo tempo ho visto il Pescara al top con un vantaggio non da poco che era la nostra infranumerica. Faccio un'ultima domanda. Torres, Cesena, Pescara, Perugia. Secondo lei qual è quella squadra che ha qualcosa in più delle altre? O sono tutte sullo stesso piano? Cesena e Perugia secondo me sono squadre forti. Il Pescara si riesce a capire anche i momenti in cui magari le partite vanno chiuse o vanno gestite. Può rientrare, come può rientrare la Spalla, Lentella. La Torres è una squadra secondo me forte per la categoria, non è un fuoco di paglia assolutamente, però credo che stia un pochino indietro a questo quartetto. Il ricordo di Gorgone della sua esperienza a Pescara? Ma è stata un'esperienza negativa perché era una squadra un pochino in una stagione tribolata. Io arrivai a febbraio, era una squadra che poi è andata un po' in caduta libra, però ho un ottimo ricordo. Una società seria, dirigenti del Icarri, il presidente Sebastiani, il ministro Ezzema. Ho affetto per questa squadra perché mi piace il modo di lavorare, quindi un ottimo ricordo della città, del tifo e della società attuale. Grazie ministro, arrivederci, grazie.